quando si verificano dei fenomeni temporaleschi o delle giornate precipitative prolungate e magari i boschi nelle zone piane sono più umidi densamente umidi e bagnati ci vengono in soccorso per la ricerca e la fruttificazione dei funghi le zone del sottobosco nettamente più ripide quelle proprio dove gli alberi crescono ma il pendio è piuttosto ripido questo perché l'acqua scorrendo più velocemente ed essendo assorbita in maniera minore o essendo comunque meno trattenuta dal terreno permette di fatto di asciugarsi un pochino più rapidamente al suolo quindi riscaldarsi un pochino più velocemente e far sì che si ricreino le condizioni idonee per la produzione di funghi in particolare i primi dopo temporali e con condizioni comunque calde quindi in una zona ripida che prende un pochino più sole se riscalda un pochino di più durante le ore diurne magari in ambiente montano i porcini sono tra i funghi più reattivi in assoluto in particolare voletus edulis qui vediamo proprio come nella sponda ripida nonostante una stagione avara anche di temporali ma con le giuste precipitazioni abbondanti in questo caso negli ultimi giorni vediamo che i posti proprio ripidi del sottobosco dove si è asciugato un pochino prima al suolo in questo caso hanno favorito la comparsa dei primi primordi dei nostri porcini ovale tu sedulis e li seguiamo in questa loro fruttificazione abbondante in questo caso a 1400 metri di altitudine a distanza di 16 giorni dall'ultimo evento pluviometrico importante come notiamo proprio in queste zone ripide sta iniziando la vera e propria fase di nascita vediamo degli esemplari un pochino più grandi celli proprio nelle zone più aperte ed esposte e laddove lago invece del nostro abete ha trattenuto maggiormente l'umidità permangono gli esemplari più giovani che fanno capolino come vediamo da uno strato molto spesso di suolo e di terreno in virtù di una stagione estiva molto siccitosa e qui vediamo bene proprio il suolo come si è asciugato per permettere al nostro corpo fruttifero al nostro fungo di trovare l'acqua sufficiente e adatta alla sua fruttificazione questo perché ricordiamoci che i funghi sono composti in elevata percentuale superiore a 75 per cento da acqua e di stato hanno bisogno proprio di trovare l'acqua nel terreno guardate che strato di aghi che riescono a superare con la loro forza per svilupparsi hanno proprio bisogno di acqua per accrescersi e svilupparsi magari con meno disponibilità di acqua in questo punto comunque loro sarebbero risultati di dimensioni minori o non sarebbero riusciti ad accrescersi e a spuntare nel letto del sottobosco queste condizioni in genere quando noi le verifichiamo su un versante quindi su una zona ripida e specifica del sottobosco dobbiamo prestare attenzione a seguire tutta la stessa fascia sulla stessa altitudine bene o male perché probabilmente in quel punto ci sono si sono verificate le giuste condizioni di asciutto umidità esposizione al sole e eventuale assenza di fattori o comunque debolezza di fattori negativizzanti come venti asciutti che permettono ai nostri funghi di svilupparsi e fruttificare anche in maniera abbondante come abbiamo visto in questa fungaia